È un comparto che ha risentito del coronavirus e quello dell'agricoltura, ma nel territorio di Cervetri e Ladispoli le aziende sono riuscite a mantenersi a galla con la vendita a domicilio. Un settore che ha in qualche modo driblato la spaventosa crisi a causa dell'isolamento. Diciamo che non ci siamo mai fermati, siamo sempre stati operativi dal primo giorno e appunto vorrei fare una nota, vorrei ringraziare tutti i clienti che ci hanno scelto e che continuano comunque a venire da noi. Noi abbiamo cercato di dare sempre il servizio migliore, portando a casa, avvenendo incontro con prodotti, con esigenze e questo cercheremo di farlo e sì, nel senso vedo che comunque c'è voglia anche da parte delle persone di riuscire, di venire. Daniele intanto ci mostra questi splendidi fiori di zucchine vendute a un euro al chilo per venire incontro ai consumatori. Le zucchine diciamo adesso c'è produzione, noi le stiamo vendendo diciamo a un buon prezzo, ma ne euro al chilo, fresche. Ora si ricomincia con la stagione estiva in arrivo, è alta la fiducia di riprendere a vendere nella normalità. Io sono fiduciosa, io personalmente sono fiduciosa, chi mi conosce lo sa che sono prevalentemente positiva, quindi sono fiduciosa. Sicuramente le persone hanno voglia di uscire, di evadere e noi siamo al posto più vicino, quindi li aspettiamo. Problema da sciogliere è la mano d'opera. Qui in zona Monteroni in molti si servono degli stranieri, gran parte dei quali rimpatriati nei paesi di appartenenza. Per milozzi della CIA di Roma si potranno sostituire con persone all'altezza che abbiano delle competenze nella potatura e la raccolta e non sarà facile, continua, trovare dei sostituti all'altezza se non si hanno delle agevolazioni per fare dei corsi di formazione.